Buon pomeriggio a tutti e dopo aver breccato un pochino con una mela riprendo a fare video parlando questa volta di tennis torneo ATP di Rotterdam in Olanda dove I know il nostro Fogna Fognini ha perso contro il russo Kachanov numero ATP 17 mentre Fognini numero ATP 11 sconvitta per 2-7 a 0 in 1 ora e 19 minuti 6-3-6-3 32 minuti il primo set 47 secondo vittoria del russo quotata 1,50 1,51 1,54 quindi insomma Fognini esce già di scena in questo torneo e speriamo invece che a Buenos Aires Cecchinato più tardi vincerà grazie a tutti ciao